La missione di oggi è impossibile, devo vincere una partita usando solo armi Avengers Ma Callari non è impossibile per niente Se mi fai finire di parlare non solo dovrò utilizzare solamente queste armi Dovrò prenderle tutte, quindi prendere tutti i medaglioni, tutte le mitiche e ovviamente tutte le armi Avengers L'ultima partita è la più assurda che abbia mai fatto, quindi rimani fino alla fine Saluto le leggende che sono il codice Callari Possiamo usare solo loot Avengers e non solo, dobbiamo anche trovare tutte le armi Avengers ragazzi Quindi sarà un video veramente veramente interessante Ovviamente possiamo usare armi normali fino a quando non troviamo qualcosa dei nostri eroi Al momento 0, ok dai dammi questo, dammi questo, dammi questo Vabbè non ci credo ragazzi, ok va bene Il mio obiettivo era spaccare qua per prendere la cassa di munizioni ma a quanto pare Fortnite mi odia, soprattutto mi odia perché non stanno spawnando le casse Avengers Che ci sono dei bot qua Perfetto Avengers Niente ragazzi, assolutamente niente Bellissimo, avevo il bot che mi aiutava ragazzi, avete visto? Che figata Grande bot, ti metti questo Che poi ve l'ho detto solo loot Avengers ma in realtà intendo solo loot supereroi in generale Cioè letteralmente dobbiamo trovarle tutte Compreso quindi i boss Per questo sarà veramente veramente difficile Andiamo prima di tutto a prendere Dr. Doom Siamo scesi qua apposta Apposta? La posta avrà le sette Aaaaaah Oh da dove dove escono? Ma quanti ne sono? Ok ragazzi, due armi su 150 miliardi recuperate Dobbiamo adesso trovare una cassa degli Avengers E iniziare a trovare Scudo di Capitano America A strada di War Machine E tutte le 60.000 armi del signor macchina da guerra Poi dobbiamo andare a prendere Mysterio Poi dobbiamo andare a prendere Emba Frost Sarà maledettamente una cosa impossibile Cassa 2 sei un bot Mori Ok, il punto più vicino dovete andare a prendere le cassa Avengers E il Doomstat Tu chi sei? Dimmi che sei War Machine Sei War Machine e non vendi le tue armi? Mi fai schifo War Machine Mi fai schifo, mi fai Mi fai proprio schifo Librezzo, disgusto Sei War Machine e non vendi te stesso? Va bene, ok Come ho fatto a lisciare letteralmente tutto? La gente sta Boom No, no, no Cosa? Che porco Recuperato Pistola Quanti è? Torretta automatica di War Machine Quindi adesso ci mancano Arsenale di War Machine Jetpack di War Machine Scudo di Capitano America E le mitiche Dei Boss Nessuno ha preso il Raft Godo Al Doomstat lo hanno preso Ma il tipo che l'ha preso O ha lasciato il medaglione O è morto Si ha lasciato il medaglione È un grossissimo problema Come direbbero Al paese mio Maligna Malissimo sign Perché vuol dire Che ha lasciato il medaglione Ma si è preso le armi E se ha lasciato il medaglione E si è preso le armi Vuol dire che noi non sapremo mai Dove si trova Ma eventualmente Se andiamo a vincere la partita Lo si troverà da qualche parte Questo diciamo che lo ignoriamo per adesso Corri madonna mia Lo scatto dura mezzo secondo La macchina Eccola qua la macchina Ma la tifa di prima Si ha decisamente abbandonato Tutto Tranne il medaglione Quindi noi facciamo così ragazzi Addio Ma perché vuole me sto qua Cosa ho di tanto speciale Il medaglione Dai 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 Adesso mi serve il tuo aiuto Non ci credo La nostra sfiga Non conosce limiti Ma che veramente Tre c***o di torrette Non le posso manco tornare Tutto a portare insieme Se no Sarebbe stata una cosa incredibile Tre torrette automatiche Eeeh Sto dentro la macchina Che sai Che mi ha sfondo Sto dentro la macchina Ancora sta sto qua Lo avrei segnato Per stream sniping Se non era Che non sono in live Figlio di p***a Cambio di strategia Stiamo a colonne Comedianti Perché qui sono un sacco Di casse Avengers Così che le eluchiamo Prendiamo il Noflut Avengers Andiamo al raft E poi facciamo tutto quanto Il giro Che comunque Molta gente vuole Colonne Quindi molta gente Scende Colonne Questa persona Non era una persona Codo Lo scudo E dai ragazzi Dai Buonissimo E muori Anche lui Aveva il jetpack Ovviamente ragazzi Direi che possiamo andare Al raft Sapete Perché A colonne sono frite le casse Abbiamo due Armi Avengers Se prendiamo il raft Magari la troviamo L'arstenale Si può fare buona roba Anche se l'arstenale Forse è l'unica arma Che non ci deve interessare Perché tanto Spona l'isola centrale Nessuno è andato Ok perfetto dai Buono Vamolos Dammi questo Non c'è nessuno Vai 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 Dammi questo Vai 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 Ottimo Oddio ma qua l'acqua Si è pulita No Il verde Però qua non ci sta più Che balde Abbiamo tre armi Dei supereroi ragazzi Ce ne mancano almeno due Per completare un inventario Potevamo cercare di prenderle Tutte quante Proprio tutte quante Andiamo ovviamente Al doomstart 15 Ci manca letteralmente La torretta domatica Di War Machine Perché la sana Sapiamo da trovarlo Le uniti che sapono da trovarla Ragazzi Sta andando benissimo Sta andando insano Muori loser fruit E muori pure tu Bot misterioso Però ci sia un bot Eh decisamente un bot Ok qualcuno ha preso il medione di doom No Sperava che nessuno Di solito Quando è che mi serve Che qualcuno lo deve prendere Lo dimenticano tutti quanti Adesso qualcuno l'ha preso Ma vabbè Se ha preso il medione di doom Vorrei dire che comunque Ha preso anche la pistola Ragazzi Non ha senso Non lasciare quella pistolina Che è fortissima Certo Difficile da usare Però è comunque fortissima Quindi la prendi Giusto Se non la prende Mi si spazia Il signor misterioso Ciao ma Ma Eccolo misterio Ok C'è solo un posto Dove può stare Se non sta qua sotto Non sta da nessuna parte Ragazzi Vuol dire che si è baccato Sottoterra Decisamente è baccato Sottoterra Ok ragazzi Grazie mille misterio Non solo sei il boss Più schifoso Disgustoso Insulti che non posso dirti Perché non siamo Fini friendly Di sempre Mi hai fatto pure Per perdere un casino Di tempo A cercarti Ma Il lato positivo c'è Consideriamo Il pompa di misterio Come preso Perché è letteralmente Imprendibile Cioè Non c'è modo di prenderlo Quegli assi ci mancano La stenale La torretta automatica E la pistola di doom Dai ragazzi Eccola qua Lo sapevo ragazzi Lo sapevo che c'era Ci manca solo L'arsenale E la pistolina Del dottore La pistolina Del dottore Però che vale C'è gente sull'isola Non andrò a prendere L'isola Perché tanto Sicuramente Qualcuno prende la bandiera E quindi lascia Un arsenale Infatti Cosa succede Se forco Io non volevo fare Questa cosa Poi ora che ci metto Sto dando il pompa Leggettare ragazzi Che non avrei potuto utilizzare Ma facciamo finta Che è pompa di misterio Dai Potrei prenderlo E scapparmi Forco Com'è successo Quanto danno fatto Quanto danno Che arma mi ha preso Ok Ecco lo spiegato L'autore del tordum Ragazzi Ovviamente nel bunker Togliamo star per davanti Ok Come cazzo Come fanno C'è uno limbo Oh ma perché Ma Vai Fuori È incredibile Ci riproviamo anche Perché l'unica arma Che ci manca Di questo video È letteralmente L'arsenale Avremmo potuto prendere La in quel momento Però Non ce l'abbiamo fatta Ehm Sono un attimo Dimenticato del fatto Che possiamo utilizzare Solo armi Avengers Però dai ragazzi Non consideriamo Sì dai Consideriamo pure la torretta E lo scubarmi Avengers Ora Dai dammi l'arsenale Dai dammi l'arsenale Su quella Sai L'arsenale E già Dai Abbiamo tutte quante già Ok dai Manca letterale Solo l'arsenale Madonna mia sto coso Guarda iniziare a sparare Un po' prima Arsenale Arsenale Che poi comunque Nella scorsa presenta Mi sono accorto Che dietro di me Ne avevo letteralmente Un medica E uno shieldone Io vi giuro Non so da dove Siano sponati Non me li ricordavo Non vi ho mostrato Né video Né niente Però fidatevi O posso fare A mostrare i video Dipende da come mi sento Ragazzi Livello Coduria Astrale Ragazzi Ok E' insano E' insano E' insano Ragazzi Ok abbiamo tutto Abbiamo letteralmente Tutto Scudo Arsenale Vitraglietta E Jackpack Tutto Il loot Avengers Ci manca Solamente Il pompa Del signor Misterioso La pistola Di Dr. Toon I guanti Di Dr. Toon Insomma Tutti i boss Però li abbiamo già presi Non possiamo partire tutto quanto Possiamo dire Per adesso di aver preso Tutto il loot Marvel In un video Adesso devo andare a vincere Usando solo questa roba Dai Dai Può morire per favore Coda Arriva il pompa Al posto di cosa Lo metto O dello scudo Dai Andiamo 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 A stravicere Questa Challenge Perché Siamo pazzi Ragazzi Pazzi per i No Ragazzi Vi lascio La vostra immaginazione Per cosa sono pazzi Questi ragazzi No Il castello di Doom E' fuori si Vogliamo provare la pazia Che ma Rast Che nessuno ha preso Il Rast Signori Ma siamo pazzi Ora che c'è C'è un prescindore Dovrei prendere Lo scudo Ok Che challenge Ragazzi Abbiamo tutto Un inventario Avengers Signori Poi sapevo Che Come si chiama L'arsenale Sarebbe stata la svolta Cioè Non era fortissimo Il tipo Col mediano di misterio Però Senza arsenale Non l'avremmo mai Eliminato Adesso Per quale Arcano Motivo La signorina Emma Frost Non è stata presa Nessuno Sta venendo presa Adesso Giusto Boom Boom Bitch Get out The way Bitch Get out The way Bitch Get out The way L'assalto Non serve assolutamente Una massa Invece Ci serve Abbiamo tutto Abbiamo letteralmente Tutto ragazzi L'unica cosa migliore Sarebbe la La pistola monarca A posto del bamba Però non possiamo dire Di non avere tutto Un medico Un medico Un medico Qualcuno ha da prendere Il medagliore di doom Ragazzi Dai Dimmi che hai preso pure La pistolina E siamo tornati Dove tutto è iniziato A colonne Comedia Stai 5 di vita Mi triggiano Un bot Ragazzi Lascia like Iscriviti al canale Se anche a te Da fastidio Che mi mancano Giusto 5 di vita Lascia like Iscriviti Anche se non ti da fastidio Ah C'è il volide Ah Il volide Fuori Fu E' morto E' morto Lo stesso Vai Carlo Vai Carlito Sì Ce l'aveva Abbiamo preso Tutti I Medaglioni Tutte le Armi Avengers In un Video Vi ho preso Ragazzi qua Ok Togliamolo Assolutamente Perché Poi io Quello schifo Abbiamo preso tutto Abbiamo preso Letteralmente Tutto Grazie mille Carlo Shout out A Carlo Ragazzi Che letteralmente E' fatto vincere Alla challenge Senza di lui Non avremmo mai Preso tutto Tutto Oh E' mortale Oh E' morto Grazie E siamo in tre Dai ragazzi Dai ragazzi Non so di cosa ho paura Sicuramente Visto che c'ho Un assurdo Sei aperte Perché sono un bidone Se l'avversario E' fortissimissimo Non devo Mottare il bando Oh però Non mirando Perché non mirando Sono più bravo Per quale motivo L'ho squagliato Non mirando E non mirando E non Diva Mirando Sono importanti Le di due ragazzi Sono punti esclamativi E lo faceva 11 bond E con tutte le armi Avengers E solo queste Iscriviti ciao Ciao Ciao